Sono passati 150 anni ma il Circolo Unione di Lucera è sempre lo stesso. Un centro di aggregazione culturale che dal periodo dell'Unità d'Italia ha accolto tra i suoi iscritti personalità illustri dell'Italia moderna. L'evento, un piccolo diadema all'interno delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, è stato celebrato con una manifestazione affollatissima dove tra i ricordi commoventi del professor Paolo Emilio Trastulli e la presentazione di un'apposita pubblicazione dal titolo Una lunga fedeltà curata da Giuseppe Trincucci erano presenti molte personalità tra le quali il prefetto di Foggia e il vescovo della diocesi Lucera Troia. Un salto nel tempo che ha toccato le varie tappe storiche del Circolo Unione da sempre ubicato in Piazza Duomo proprio di fronte alla cattedrale. Qui si sono svolti incontri letterari, politici e culturali importanti. Qui Massimo Troisi decise di girare diverse scene del suo film Le vie del Signore sono finite, proprio nella Sala degli Specchi dove tra i ricordi e qualche lacrima il Circolo Unione ha rivissuto i fasti di un tempo ma ha anche verificato i propositi di un lungo futuro.